Ve lo spiega il Presidente? No, no, tutti insieme. Adesso vi posso dire solo che abbiamo tanta fame e Scicche è romano, romanista e sarà uno shock per noi averlo dato via. Potete confermare le cifre? No, le cifre non parliamo. Però un grazie al Presidente. Ma già questa sera ti verrà a Roma il Presidente? La tifosa della Roma... Sono molto felice che Scicche sta a Roma perché ci ha messo il cuore a farlo venire. Il ragazzo è contento. Scusa, Presidente. Scusi. Che abbiamo qui questo signore che... Sono contento, grazie. È la cifra giusto per la Roma per cercare di vincere lo scuolino? No, la Roma ha fatto un grande affare. Sì, pure Ferreiro l'ha fatto un grande affare. Ma qui non parliamo di soldi, parliamo di calcio. È importante trattatemi bene perché è il mio giagliello più bello, è un bravo ragazzo e vedrà che è spietato davanti alla rete. Zapata è il sostituto? No, Zapata no. Arrivederci. Presidente, Presidente. Prego? Quanto è durata la trattativa? L'avete visto ancora sono entrato? Fatevene una domanda. No, no, Presidente. Eh? Che dobbiamo fare qui? Quando arriva? Ciao! Ciao! Quando arriva? Eh, cosa è per troppo, eh? Buongiorno, Presidente, in giornata, in giornata. Sì, sì. No, non farò via, Presidente. Buongiorno, Presidente. Vi devo salutare, ragazzi, che devo andar via. Presidente, è l'operazione più importante che ha fatto davanti a Presidente? No, no, è una delle importanti. La Sampdoria è una garanzia perché i giocatori quando vengono da noi trovano il mare, la serenità, la passione e un Presidente che li ama. Qualcuno ha fatto da me. La Roma è stata la società più motivata a prenderlo? No, no, è stata veramente dura. Sono molto felice che Scicca abbia scelto la Roma e io sono contento che sia qua. Quanto è stato ritirato? Ma c'era il Paris Saint Germain, c'era il Monaco, c'era la Roma. Napoli? Napoli e altre squadre. Ma è vero che ha dovuto litigare con il suo amico De Laurentiis per Scicca? No, no, io non litigo con nessuno, me ne frega niente. Adesso vi saluto, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.